Ci tengo a dire che questa è una pedaliera costruita da l'organario Claudio Pinchi di Poligno che è presente in sale di Pintino. Mi viene inaugurata questa sera per la prima volta, mi sono scontato un breve bis che ne evidenzia un'altra caratteristica, cioè la possibilità di avere i raddoppi e di poter suonare anche le note acute con i pedali, cosa che è naturalmente nuovissima per questo tipo di strumento. Seguirò il titolo, ho un pezzo famosissimo, la marcia funebre, la marioletta, originale da Giacomo Conte, trascritto, perché lo abbiamo, da Giuseppe Lupis. Giacomo Conte 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 Giacomo Conte